Qual è la lingua giusta per i lavori universitari? I nuovi criteri varati dal governo privilegiano le lingue straniere ed è subito polemica. Un'agenzia ad hoc, l'Anvur, valuterà i lavori di ricerca con un titolo di merito a chi scriverà in lingua diversa dall'italiano. Diversa appunto, non nella consolidata lingua internazionale della comunicazione scientifica e cioè l'inglese. Per chi è contro, ciò comporta un impoverimento dell'italiano e della nostra cultura. Per chi è a favore, si viva ormai in un mondo globalizzato di cui bisogna accettare regole e limiti. Una soluzione di buon senso potrebbe essere quella giusta. La comunicazione scientifica oggi ha la necessità di raggiungere il maggior numero di persone. Quindi la lingua inglese indubbiamente è un elemento essenziale come veicolo di comunicazione. Bisogna anche tenere presente però che ci sono scienze, in particolare le scienze sociali, che hanno una componente locale estremamente importante. Pertanto, in questo caso, la lingua italiana ha un valore aggiunto da non trascurare. Pertanto, in questo caso, la lingua italiana ha un valore aggiunto da non trascurare. Pertanto, in questo caso, la lingua italiana ha un valore aggiunto da non trascurare. Pertanto, in questo caso, la lingua italiana ha un valore aggiunto da non trascurare.